Dopo un'edizione che ha riscosso un grande successo a Milano, replichiamo qui a Sanremo, patria e teatro del Festival, con Nadia Bengala, sempre più bella. E tu sei molto gentile, caro, comunque il complimento è ben accetto. Nadia, che aria si respira in questa atmosfera sanremese? Beh, come sempre è bellissimo. Io adoro venire a Sanremo durante il Festival, ho avuto annate in cui ho lavorato molto, presentavo tutte le cose al di fuori dell'Ariston, a Piazzetta Bresca, a Piazza Colombo, eccetera, eccetera. e quest'anno sono in giro un po' come giornalista, in quanto scrivo per alcune riviste e poi mi capita chiaramente di essere intervistata, fare delle cose simpatiche, poi incontro i tanti amici, conoscenze antiche, si può dire, nella lunga esperienza del nostro lavoro. E niente, cosa mi vuoi chiedere? Chi mi è piaciuto a Sanremo? Una cosa positiva e una negativa di questo festival? Allora, negativo che a volte è stato un po' troppo su delle persone e meno sulla musica, diciamo. Per questo forse la prima sera un po' troppo, la seconda mediamente, ma già ieri era diverso. Quindi ieri è stato più sulla musica, è stato molto bello. Poi ti dico una cosa, alla fine tu ti accorgi che è sempre bello rivedere i vecchi big di Sanremo che hanno fatto la storia a Sanremo. Quindi per me rivedere ricchi e poveri insieme, poi tra l'altro li conosco, poi sono molto amica di Marina, le voglio bene, eccetera. Quindi ero contentissima di vederli insieme e poi devo dire, a parte la bravura di tutti, ma lei era strepitosamente bella sul palco. Era veramente bella in superforma, quindi vuol dire che la gioia che c'era dentro sia vista anche fuori, anche su di lei. Grazie e ti auguro buon proseguimento di Sarada. Ciao, grazie anche a te. Ciao, grazie.